UN PICTURCHI UN PICTURCHI UN PANILO UN PANILO A KASSEVE UN' PANILO UN PANILO C'è una breath Senti che figata a KASEVE Mamma mia Mamma quanti sono e come sono belli Ma sì 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 Ieri ho dormito Tipo tutto il pomeriggio Mi sono addormentato tardi Verso le 3 però Mi sono svegliato tardi altrettanto Più o meno verso le 12 Ragamo chi dorme Dunque ci tenevo a ringraziare Tutti coloro che sono venuti a Cattolica Per l'ennesima volta non pensavo Mi disse tutta questa gente Ma sono felicissimo davvero Il calore che mi avete mostrato questa sera è stato enorme E spero di rivedervi presto Infatti ci vediamo alle prossime date Grazie a tutti